Drammatico schianto frontale lungo la E45 nel quale ha perso la vita un uomo. È successo attorno alle 15.15 all'altezza del chilometro 141 nel comune di Pieve e Santo Stefano. Tre le persone coinvolte nel violento impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza con un'automedica della Valtiberina, un'ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro ed un'altra della Misericordia di Arezzo. All'arrivo dei soccorsi un uomo di 79 anni, residente a Pieve e Santo Stefano, è stato trovato già senza vita all'interno della sua auto. Gli altri due coinvolti, un uomo ed una donna di 47 anni, residenti nella vicina Umbria, sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso, lei con l'elisoccorso Pegaso, lui con l'ambulanza, con medico a bordo. Presenti anche i vigili del fuoco di Sansepolcro e la polizia stradale di Città di Castello. A causa dell'incidente è stata chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni la E45 a Pieve e Santo Stefano.